Idea. Allora, un video per Bettella. Facciamo una sorta di triumvirato, ma non storico. Io sono Seneca, lui è Agrippina e tu sei Nerone. Tu finisci male, io finisco male e lui no. Figata, vecchio. Stop. Fatto. Questo era l'esordio del video. Ok, fatto, fatto. Ah, ecco dove tiene la cocaina. La filosofia apocolochintesis e l'educazione dell'imperatore e Roma. Ciao. Nuova cavallo di Roma decine che devi morire. Canta vostra, Nerone, raffa le tue robe da princess. Zitta, Agrippina. Uccido anche a te. Uccido anche a te. Uccido anche a te. Grazie a tutti